Che cos'è l'analisi statica del codice e come farla con SonarCube? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere, a capire che cos'è l'analisi statica del codice e la impostiamo con un programma che si chiama SonarCube. L'analisi statica del codice è quella pratica di ingegneria del software che analizza un programma quando non è in esecuzione e quindi tipicamente ne analizza i suoi codici sorgenti. Al contrario invece di quella che è l'analisi dinamica che esamina un programma quando è in esecuzione. L'analisi statica del codice è utile perché permette di scoprire numerose informazioni e dettagli su quelli che sono i nostri sorgenti quali per esempio degli code smell o delle cattive pratiche, scoprire delle vulnerabilità note, sapere qual è la code coverage in termini di test del nostro sorgente, scoprire quali sono duplicazioni di codice, siamo tutti un po' colpevoli di fare ctrl c, ctrl v delle volte e potenziali problemi di sicurezza e quindi prende il nome di SAST, Static Application Security Testing quindi testiamo in maniera statica la sicurezza della nostra applicazione. Ci sono molti strumenti sul mercato che permettono di fare questo, uno dei miei preferiti e quello che tendo ad installare sempre in processi DevOps è il cosiddetto SonarCube. La cosa che mi piace di SonarCube è che è particolarmente rapido da installare, è una curva di apprendimento relativamente semplice ed è presente in una versione community completamente gratuita. Ha le funzionalità principali e ci sono tutte, quelle magari un pochino più avanzate no, però va benissimo per prendere confidenza con questo tipo di analisi e sicuramente saperne di più sui nostri sorgenti. Inoltre SonarCube si integra con facilità con le piattaforme di software engineering o DevOps più diffuse come Azure DevOps, GitLab, GitHub e così via. Per il momento basta con le parole, andiamo a vedere subito SonarCube in funzione. Siamo dentro SonarCube e vediamo quella che è la pagina dei progetti. In questa pagina ci vengono elencati tutti i progetti che abbiamo configurato, quindi i sorgenti che vogliamo analizzare. In questa visualizzazione abbiamo un riassunto di quelle che sono le caratteristiche della nostra codebase, di quelli che possono essere dei bug, eventuali vulnerabilità note. Questi sono hotspot, sono delle euristiche che vanno a identificare delle parti di codice che dicono che potenzialmente potrebbero rappresentare dei problemi di sicurezza. Non sono stati revisionati neanche uno perché questo è un progetto che ho impostato poco fa. CodeSmell, quindi cattive pratiche di codice che possiamo andare a sistemare. CodeCoverage, quindi quanti i nostri test automatizzati coprano la codebase, e quindi scoprire quanta parte della nostra codebase è coperta dai test automatizzati e duplicazioni di righe di codice, quindi righe di codice che sono effettivamente praticamente uguali l'una all'altra. Siamo un po' tutti colpevoli di conto C, control V a volte. Questo però è un numero abbastanza buono. E abbiamo il numero di righe di codice del progetto. Questo qui è eShop, una implementazione di un e-commerce web che ho trovato su Github. E se io entro posso vedere appunto tutte le informazioni che io ho dato, che ho visto poco fa, ma posso entrare nel dettaglio in quelli che sono le issues, che sono tutte categorizzate secondo i filtri che vediamo qui a sinistra. Quindi posso vedere quelli che sono effettivamente dei bug o degli errori. Qui siamo in un codebase C Sharp, dove abbiamo per esempio una sync void, qui sarebbe da ritornare a un task, in effetti ha ragione. Ci sono bug anche, lui è in grado di analizzare tantissimi linguaggi, C Sharp, HTML, JavaScript, veramente la lista è lunghissima. Quindi ci dice di aggiungere un attributo alt a questa immagine, eccetera. I problemi sono anche categorizzati, diciamo, per severity, quindi non ho particolari... Oddio, c'era il filtro, quindi ho cinque cose critiche, ok, che posso andare a vedere. E una cosa molto interessante è che se vado su Why This Is An Issue, posso vedere una descrizione, posso vedere il codice, un esempio di codice sbagliato e un esempio di codice corretto. Quindi è sostanzialmente anche una fonte di apprendimento veramente importante e profonda. Una cosa interessantissima sulle regole è che sono categorizzate veramente bene e per esempio per tag o per security posso dire vado a vedere se c'è qualcosa che riguarda la OWASP Top 10 o la Suns Top 25 e così via. E mi assicuro immediatamente che il mio codice sia a posto in termini di queste classifiche di bug di sicurezza. E poi posso anche ovviamente utilizzare i tag che sono molto utili, tipo Accessibility, ovviamente mi tirerà fuori esatto gli HTML delle immagini dove manca l'alt. Sempre in quest'ottica posso andare nelle regole, nei Quality Profile. Altre cose che posso vedere, per esempio i miei problemi di livello minor, quindi cose che siamo quasi a livello, diciamo, estetico o di poco conto. posso andare a vedere quali sono i problemi nel codice principale oppure in quello che sono i codici di test, eccetera, eccetera. Tipo se io prendo anche un problema, gli posso cambiare la categoria perché magari lo voglio trattare diversamente, eccetera. Posso chiuderlo, segnare come risolto, eccetera. Quindi è un portale che mi permette di gestire la qualità e le operazioni di remediation per sistemare quello che mi viene segnalato con tanto di riferimenti a best practice e tanto di spiegazioni. Nei security hotspot abbiamo appunto quelli che sono delle euristiche, quindi sono degli algoritmi che, in base a delle regole empiriche, analizzano il codice e dicono qui potrebbe esserci un problema. Ad esempio abbiamo in questa codebase, c'è scritto default password, è questa cosa che password, è scritto così, e ci viene detto, attenzione, qui ho trovato quello che potrebbe essere una password, non mettere credenziali ad-coded. Ovviamente nel codice c'era anche to do, don't use this in production, e così via. È tutto categorizzato per livello di priorità, alto, medio e basso, quindi per esempio qua abbiamo encryption di dati sensibili. Ci viene spiegato il perché è un rischio, con spiegazioni molto dettagliate, come verificare se il rischio esiste effettivamente e come sistemarlo. E quindi è utilissimo in quello che è anche un approccio strutturato alla qualità del sorgente in termini di sicurezza. Qui nella sezione misure abbiamo tutta una serie di metriche che possiamo capire sul nostro codice, quindi l'affidabilità e lui ci spiega che cosa intende per affidabilità, in termini di sicurezza, i voti, in termini di quanto è manutenibile, abbiamo il code smell, abbiamo quanto debito tecnico, abbiamo numeri sulla coverage, insomma è ricchissimo di statistiche sulla nostra code base e c'è veramente da perderci le ore. Abbiamo poi un albero per navigare la nostra code base, dove vediamo categorizzati dove troviamo i singoli problemi, il code smell dove sono, quindi abbiamo di qua 115, posso andare a vedere eccetera eccetera. Qui in activity vado a vedere tutti quelli che sono gli eventi che sono avvenuti nel progetto nel corso del tempo. Quindi queste erano le issues. Tutti, quello che abbiamo visto qui all'interno di un progetto, tutti questi issues possono essere personalizzati con quello che si chiama un profilo di qualità, un quality profile, dove all'interno di SonarCube ne troviamo di prenderti finiti per ciascun linguaggio che è in grado di analizzare, ma posso anche crearmene uno personalizzato dove posso andare a cambiare le regole che ci sono dentro, quindi posso fare un... quelli di default non li posso toccare, ma posso diciamo ereditare, estendere oppure copiare e dico Michele Way o Michele Profile e vado a fare copia e qui vado a dire tra tutte le regole che ci sono all'interno di SonarCube vado a dire quali mi interessano, quali voglio attivare e quali voglio evitare. Quindi per esempio queste sono quelle già presenti perché ho fatto un copia, posso disattivare oppure posso tornare indietro e dire ne aggiungo di più e leggo e prendo quelle che mi interessano e costruisco insieme al mio team il quality profile relativo alla mia azienda, alle mie pratiche. I quality gate infine ci permettono di monitorare con delle condizioni il nuovo codice e anche quello diciamo della codebase intera per dare un voto o più che altro uno sbarramento a quando vengono fatte modifiche al progetto. Quindi per esempio è questo semaforo qui passed verde oppure rosso è calcolato in base ai quality gate e questo è il quality gate predefinito dove per esempio si imposta che la code coverage dei sorgenti deve essere sul nuovo codice che viene mandato perché è in grado di ragionare sia sul nuovo codice sia che sulla codebase complessiva quindi abbiamo l'80% del code coverage sul codice nuovo, poche linee duplicate, deve essere mantenibile, deve essere affidabile con pochi bug eccetera eccetera e io posso crearmi questi quality gate che sono utilissimi per monitorare l'andamento di un progetto, di una codebase e mi assicuro che nel tempo non degradi e mi mantengo la codebase pulita mano a mano che subisce modifiche e posso anche integrare questi quality gate all'interno di piattaforme come Azure DevOps, GitHub e così via per bloccare le pull requests e impedire che vengano chiuse o portate avanti finché il quality gate non diventa verde infine c'è tutto il portale di amministrazione dove si vanno a configurare tutti gli aspetti di SonarCube dalla gestione di utenti, permessi si integra per esempio con Active Directory o sistemi all'ed up vado a gestire i progetti cancello progetti e estensioni che posso prendere plug-in che posso prendere da un marketplace aumentare la versione eccetera eccetera per il SonarCube nel mio computer ho deciso di utilizzarlo di farmi il setup in formato containerizzato e quindi sono andato a prendere dal sito ufficiale di Docker Hub qui su dockerhub.com sonarcube underscore sonarcube così comunque basta cercarlo e sono andato a prendere la versione l'ultima versione 991 community ho quindi composto il comando docker docker run espongo la porta a 9000 perché SonarCube di default giro su porta a 9000 resto in modalità interactive ma potrei anche mettere di the touch per lasciarla andare ma voglio in modalità interactive perché così mi vedo anche il log giusto per comprendere mappo un volume quindi tutta la configurazione iniziale che si fa a SonarCube l'installazione oserei dire la configurazione del suo database di tutti i suoi tool interni la mappo su ctemp scube questa cartellina presente sul mio computer che si mappa su opt SonarCube data che è dove SonarCube si aspetta di trovare i suoi file di dati l'immagine SonarCube 991 meno community ti do il nome solo che questo deve essere spostato di qua altrimenti da errore meno meno scube adesso ci siamo lo faccio partire viene ovviamente io l'immagine ce l'avevo già in locale adesso ci becchiamo tutto il log di installazione e configurazione di SonarCube metto in pausa il video ci rivediamo alla fine ci mette un paio di minuti installazione completata vediamo qua sotto SonarCube is operational e lo troviamo che risponde alla porta 9000 su localhost vado qui localhost 9000 adesso la password di default è admin l'utente password admin admin che mi verrà chiesto di cambiarlo al primo avvio ok io lo cambio e siamo a posto quindi adesso siamo partiti con SonarCube per oggi con SonarCube e l'analisi statica ci fermiamo qui sicuramente usciranno altri video per spiegare come fare il setup di un progetto sia in modalità manuale sia integrato all'interno di una piattaforma come potrebbe essere per esempio Azure DevOps mi raccomando se il video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa metti un mi piace o iscriviti al canale così sarai notificato sull'uscita di nuovi contenuti alla prossima di un progetto di un progetto